Buonasera Marco Venditti, il signor Emilia Calcio News, Juventus ottimo esordio, fase difensiva e offensiva perfette, è una Juventus che offre spettacolo ma sa anche soffrire quando si copre, meglio di così non può andare. Grazie mister. Sì, è un buon esordio per il risultato, iniziare la competizione con una vittoria molto importante, adesso analizzare quello che abbiamo fatto bene e tante altre cose che sicuramente possiamo migliorare per le prossime partite, già pensando nella prossima in campionato contro il Napoli. Buonasera Motta, Marco Botuto Sport, le volevo chiedere un giudizio in particolare su Locatelli che forse ha giocato nel ruolo più delicato, più difficile di tutto l'organigramma. Ha fatto una buona partita Manu, sono contento da quello che ha fatto durante i minuti che ha giocato, lui come i suoi compagni hanno fatto bene e adesso recuperarli e preparare già per la prossima partita di campionato. È un ruolo importante ma tutti i ruoli sono importanti in campo e ognuno dando il suo meglio perché possa funzionare il collettivo e adesso ripeto recuperare e pensare già al Napoli. Buonasera Mister, Patanina del Corriere dello Sport, sono qui. Prima in tv diceva che non le è piaciuto il possesso palla, cioè doveva gestire un po' meglio la palla la squadra, mi sembra di aver capito così. Volevo sapere invece qual è l'aspetto che più l'ha soddisfatta nella partita della Juve e alla fine ha provato, ha inserito Fagioli anche sull'ala sinistra, ha lavorato due o tre palloni interessanti. Può essere una posizione anche questa per Fagioli oppure è stata una necessità metterlo largo? No, necessità no perché avevamo Samu in panchina e poteva entrare anche lui in quel ruolo. La concretezza che abbiamo avuto oggi è importante, essere determinati quando andiamo a sflarire di rigore avversaria, concludere le azioni per poter andare in vantaggio e continuare la partita. qual è il punto positivo di oggi. Sì, tante altre cose possiamo sicuramente migliorare in quella fase di quando noi abbiamo la palla, di utilizzarla bene e poter mettere in difficoltà le nostre avversarie. Federico sta bene, è avuto una piccola distorsione, penso alla sua caviglia, lo valuteremo domani ma non sarà niente di importante. Per la sfida contro il Napoli la prepareremo e al massimo come squadra giocare bene in entrambe le fasi e nelle transizioni perché è una squadra che in transizione gioca molto bene e noi essere al nostro livello per competere con loro. Buonasera, mister Giovene del Benessere Sport Italia. Alla luce del risultato e per come si era indirizzata la partita, le chiedo quanto a caldo le dispiace e ha arrabbiato per quel gol a tempo praticamente scaduto. È stata una disattenzione, quanto è dispiaciuto e quanto è arrabbiato. Grazie. Per non dire qualcosa di diverso da quello che dico ai miei giocatori, essendo onesto sempre, è quello che mi preoccupa di più, il gol che abbiamo preso. Tante altre cose possiamo fare meglio sicuramente. Buonasera mister, Camilo De Michelis, tutto io e tutto il mercato web. Volevo sapere un po' di McKennie, ha vissuto un'estate un po' particolare, oggi ha giocato bene in entrambe le fasi, ha aiutato Norne a recuperare palla alto ed ha avuto anche due occasioni da gol oltre il gol realizzato, quindi un giudizio in generale su quanto può essere importante anche lui. Buona partita, anche lui ha fatto una buona partita, come i suoi compagni. Ragazzo che può dare tanto, hai detto bene, sia in fase offensiva che difensiva. Ha qualità tecnica, fisico, sa occupare bene gli spazi. Sicuramente insieme ai suoi compagni, giocando come gruppo, come squadra, collettivamente alzeranno il livello, sia suo che dei suoi compagni sicuramente. Salve mister, Giuseppe Bisanti, Sara Diorai. Io invece volevo chiederle di Danilo, visto che in questi giorni si è parlato di capitano non giocatore. Lei l'ha fatto giocare, ha fatto un gran recupero. Ecco, che ruolo può avere Danilo in questa Juve? Un ruolo importante come sempre. È un giocatore importante per noi, come tanti altri che abbiamo nella squadra. Oggi lui e gli altri che sono entrati sono entrati bene per continuare a non solo mantenere il livello della squadra, sino alzare il livello e poter competere contro l'avversario fino alla fine. Giocatore importante come tanti giocatori importanti che abbiamo nel gruppo. Buonasera mister, Simone Nasso, Oggi Sport Notizie. Scouten ieri ha detto che questa Juventus a livello di gioco è una squadra poco italiana e più in formato europeo. Le chiedo se è d'accordo con questa affermazione e se pensa che la partita di stasera abbia dato delle indicazioni sul tipo di calcio che questa squadra con il tempo vuole arrivare ad esprimere, indipendentemente che si tratti di Italia e Europa. Gerdi Scouten è un grande giocatore, si è visto ancora un'altra volta e stasera ha fatto una grande partita, al di là che la sua squadra non ha vinto. Ringrazio sempre le parole, soprattutto venendo da un ragazzo intelligente, un ragazzo che non solo come grande giocatore ma anche come persona, un ragazzo molto intelligente. Oggi è stata una partita, una buona prestazione, una buona prestazione del PSV, una buona partita giocata e noi siamo stati molto concreti. Penso che tutte le occasioni che abbiamo creato e siamo arrivate a concludere con grande pericolo, punto positivo. Sicuramente tante altre cose nella gestione noi del palone possiamo sicuramente fare meglio perché abbiamo giocatori forti e abbiamo questo livello. A livello collettivo possiamo fare meglio sicuramente. Buonasera mister, Francesco Pellino, Agenziara. Le faccio i complimenti per l'esordio e la vittoria in Champions League e le voglio chiedere di Calulu un giudizio sulla sua prestazione e se crede che stia lasciando un buon feeling con Nico sulla fascia destra. Grazie. Pierre ha fatto un'ottima prestazione. Pierre ha fatto un'ottima prestazione insieme a tutti. Alla fine i nostri giocatori hanno fatto una buona partita. È chiaro che a livello collettivo possiamo fare meglio. Penso che è lì dove mettere la nostra qualità alla disposizione della squadra per crescere come squadra. Penso che è la strada. La strada è quello che stiamo andando per la strada giusta. Sia Pierre che Nico che gli altri che sono entrati di avere sempre questa voglia di mettere a disposizione le loro caratteristiche per far crescere le squadre. Bene, abbiamo iniziato bene la competizione con una vittoria e continuare adesso. Buonasera mister Alessandro D'Angio, Rai Sport. Ieri ha detto che Copp Maners non si vedeva e non ha visto la mancanza di allenamenti in lui, che non si notava il fatto che non si fosse allenato per gran parte dell'estate e si è visto in campo. Le chiedo, visto che lei ha detto il gol preso è la cosa che mi preoccupa di più da questa partita? No, no, no. Ho detto che è la cosa che mi preoccupa di meno. Ah, scusa, allora mi scuso io. Volevo dire che il gol preso è la cosa che mi preoccupa di meno. Ah, ok, scusa, ho sbagliato io. No, allora, quindi il gol preso è la cosa che la preoccupa di meno e gli chiedo cos'altro la preoccupa di meno dopo questa partita, per esempio rispetto all'inserimento dei nuovi giocatori. Abbiamo visto Copp Maners scambiarsi con Ildiz, abbiamo visto Nico Gonzalez trovare il gol. Sono giocatori forti che alla fine insieme uno alzerà il livello dell'altro, non ho nessun dubbio. Giocatori di grande qualità che sanno giocare in posizioni diverse perché lo hanno già fatto e hanno la intelligenza per capire come farlo nel momento di farlo e penso che sia proprio lì la crescita di queste squadre perché abbiamo, ripeto, tanti giocatori forti che insieme riescono a capire cosa devono fare in campo, in quale momento devono fare in campo e la crescita collettiva sicuramente aiuterà ognuno di loro. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Da quel più o meno si capisce il perfezionismo che insegue per questa squadra in questa stagione. Non è stato però come in questo avvio di campionato mi sembra una Juventus precisissima all'inizio della partita così come non è stato precisissimo, forse sotto Porta Blaovic. Una vittoria non cancella, cioè non aggiunge niente di più, però questi aspetti sono da migliorare tanto? Non è arrivare alla perfezione perché no, non so come si fa ad arrivare alla perfezione, però sì, tante cose migliorare, avere questa esigenza, trattandosi di una squadra forte che siamo, dei giocatori forti che abbiamo, questa esigenza di migliorare sempre, questa esigenza di essere consapevoli delle nostre forze ma allo stesso tempo sapere che possiamo avere sempre un qualcosina di meglio, un qualcosina di più o magari anche di meno ma che è meglio e penso che lì è il discorso, il discorso è non accontentarsi, non accontentarsi con un 2 a 0, non accontentarsi con un risultato, non accontentarsi in un modo di giocare, essere sempre predisposti a cercare un qualcosa di meglio, penso che è il nostro lavoro e lì è la cosa bella di questo gioco, di questo sport, cercare sempre di un qualcosa di meglio che possiamo fare sia individualmente che collettivamente, però ripeto, alla fine mettere in difficoltà le avversarie e arrivare al risultato che vogliamo, però tante cose che sicuramente possiamo fare meglio. Ultime due domande, Repubblica e chiudiamo poi con la Gazzetta dello Sport. Buonasera, Emanuele Gamba da Repubblica, sabato aveva detto che una delle cose che non avevano funzionato a Empoli era il fatto che Vlaovic era stato lasciato troppo da solo in aere, volevo chiedere se questa sera da questo punto di vista ha avuto quello che voleva visto che sono andati al tiro con gli inserimenti McKennie, con Mainers, Nico eccetera, e poi se la mia impressione è sbagliato oppure no, sembrava quasi più soddisfatto lei sabato di questa sera, dove invece sta quasi sottolineando le cose che non le sono piaciute. Sì, sei un buon osservatore, da un lato sì hai ragione, dall'altro no, perché oggi abbiamo vinto e la vittoria fa sempre bene. La cosa di Dusan contro l'Empoli è stata che non abbiamo lasciato anche il tempo della squadra ad arrivare e riempire l'area di rigore. Penso che lì e stasera abbiamo fatto meglio, a tratti l'abbiamo fatto meglio perché siamo arrivati con grande velocità, sicuramente possiamo fare meglio dopo il risultato che abbiamo ottenuto con la partita nella gestione di arrivare con gli uomini ma con il tempo, con il tempo di gioco, avere il possesso nella metà campo avversaria, cosa che ci è mancato anche un po' a Empoli sicuramente. Oggi era una situazione che si poteva fare meglio, però sono soddisfatto del risultato, questo è inevitabile, è ovvio, è chiaro che tante cose la possiamo fare, in un modo collettivo da possiamo fare meglio perché sono convinto che abbiamo le condizioni per farlo. Buonasera mister, Filippo Cornacchi, la Gazzetta dello Sport, prima di lei l'unico altro allenatore a debuttare sulla panchina della Juve proprio anche con un 3-1 era stato Marcello Lippi nel 95-96 che poi la storia è finita in quel modo lì. Già diversi giocatori di quella Juve lì dicono che in Tiago Motta rivedono qualcosa del primo Lippi dal decisionismo, volevo capire lei cosa vorrebbe avere di Lippi? Tutto, però i paragoni non fanno bene, non mi piace, lui ha fatto delle grandi cose, è un allenatore storico da ammirare, da cercare di avere tante cose fatte bene che l'ha fatto, ma ripeto, il paragone no, sono io, cerco di fare il mio meglio, poter aiutare la squadra, pensare nel presente, continuare a lavorare bene al massimo e aiutare ai miei giocatori per entrare bene ogni partita e fare il massimo, comunque questo è il nostro obiettivo. Lippi è stato un storico nel nostro calcio, di questo grande club, è solo ammirazione per un allenatore di questo livello. Grazie a tutti e buonanotte.